Musica Affidiamo a Maria il desiderio di pace delle popolazioni che subiscono la pazzia della guerra e l'appello di Papa Francesco a conclusione dell'udienza in Piazza San Pietro. La vita è fondata su un dono originario, la cui essenza è la gratuità dell'amore e la riflessione sul tema dell'aborto scritta da Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca. Si è svolto nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola il primo appuntamento del convegno ecclesiale diocesano sul tema della Lumen Gentium. Cultura, archivi e comunità per il nuovo polo bibliomuseale regionale che sorgerà nell'ex caserma Rossani a Bari. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione urbana. Alla prima edizione del premio Aldo Ciccolini trionfano i giovani talenti dei cinque conservatori di Puglia. Bentrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale di Teledeon. Affidiamo a Maria le sofferenze e il desiderio di pace delle popolazioni che subiscono la pazzia della guerra e l'appello conclusivo di Papa Francesco durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro ricordando che ottobre è il mese dedicato al Santo Rosario. Ascoltiamo. Mese d'ottobre dedicato al Santo Rosario costituisce un'occasione preziosa per valorizzare questa tradizionale preghiera mariana. Vi esorto tutti a recitare il Rosario ogni giorno abbandonandovi fiducioso nelle mani di Maria. A lei, Madre Premurosa, affidiamo le sofferenze e il desiderio di pace delle popolazioni che subiscono la pazzia della guerra, particolare la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Sudan. Giunge una triste notizia. È morto ieri all'età di 88 anni Monsignor Guido Todeschini che nel 1977 fondò l'emittente di Ispirazione Cattolica Radio Pace diventata due anni dopo Telepace. Nato a Lavagno, in provincia di Verona, Todeschini era stato ordinato sacerdote nel 1961. La sua è stata una vita legata alla carità e all'evangelizzazione e con Papa Giovanni Paolo II, divenuto poi santo, ha viaggiato in 140 paesi commentando celebrazioni e appuntamenti legati ai viaggi apostolici. Don Guido Todeschini ha scritto la straordinaria storia di Telepace partendo dalla pastorale con i più piccoli. Le parole del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che ricorda le esperienze vissute con Don Guido, che gli hanno dato l'occasione di toccare con mano la straordinaria umanità che possono trasmettere i mezzi di comunicazione. E passiamo alla prossima notizia. La vita è fondata su un dono originario, la cui essenza è la gratuità dell'amore, non la possibilità della scelta. E' quanto scrive sull'aborto Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca. Ascoltiamo insieme le sue parole. Le recenti parole di Papa Francesco sull'aborto hanno toccato un nervo scoperto della sensibilità del nostro tempo e hanno messo in evidenza il profondo cambiamento culturale avvenuto nella società, soprattutto quella occidentale. Al fondo si può dire che si è operata una insanabile frattura fra la cultura della vita, fondata sul primato del dono, e la cultura della scelta, fondata sull'egemonia della libertà, intesa come autodeterminazione assoluta. Inizia così la riflessione sull'aborto di Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca. Chi intende praticare l'aborto, si legge, dovrebbe porsi le seguenti domande. Qual è il valore primario su cui si fonda l'esistenza personale e il vivere sociale? Cosa c'è di essenziale, originario e fondamentale nella vita? Il dono o la scelta? Cosa viene prima e permette la possibilità dell'altra? Viene prima la scelta o il dono che consente poi di scegliere? Senza dubbio e in modo inequivocabile, bisogna affermare che il primato assoluto spetta al dono. La scelta è secondaria. Ha bisogno del dono per potersi effettuare. Prima viene il dono e su di esso si fonda la possibilità della scelta. Senza il dono, continua il presule, la scelta semplicemente non esiste. In altri termini, prima si nasce perché qualcuno ci ha generati, cioè ci ha donato la vita, ci ha dato la possibilità di esistere. Su questo fondamento può svilupparsi la possibilità della libera scelta. Nessuno si autogenera, nessuno decide o sceglie di venire al mondo. Tutti riceviamo la vita da altri. Essa ci appartiene perché la riceviamo in dono, non perché il frutto di una nostra libera scelta. Pertanto, scrive Monsignor Angiuli, di fronte alla vita che viene concepita e generata nel grembo materno e che dal nulla si affaccia all'esistenza, come di fronte alla vita del piccolissimo essere umano appena concepito, prima viene l'accoglienza, poi tutto il resto. Il Concilio e la Chiesa, testo della Lumen Gentium, è il documento al centro del primo appuntamento del convegno ecclesiale diocesano. Il programma fino al prossimo 10 ottobre nella Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola. Ieri l'ha seguito per noi Damiana Dorotea Sgaramella. Vediamo. Il Concilio e la Chiesa, testo della Lumen Gentium e le linee pastorali per l'anno 2024-2025. è il tema di approfondimento scelto per l'apertura del convegno ecclesiale diocesano che ha preso il via l'8 ottobre nella Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola e si svolgerà sino al prossimo 10 ottobre. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium dal latino Luce delle Genti è la seconda delle quattro Costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II che fu promulgata da Papa Paolo VI il 21 novembre del 1964. Anche dal titolo che ho tentato di dare alla mia relazione credo che possiamo entrare anche in questa lettura, in questa esperienza anche attraverso immagini a noi molto vicine esperienze a noi molto vicine come può essere l'immagine per esempio dei colori di un arcobaleno la molteplicità dei carismi delle vocazioni delle esperienze di ciascuno di noi tutti diversi che insieme possono creare qualcosa di unico come la nostra esperienza ecclesiale e umana in generale. Il Concilio ama descrivere la Chiesa come un popolo di Dio che cosa vuol dire? Questa è una domanda interessante perché quando noi diciamo popolo al di fuori del contesto ecclesiale ovviamente pensiamo che so il popolo italiano il popolo francese Papa Francesco ci ha aiutato a pensare sul solco del Concilio Vaticano II il popolo come la fraternità umana tutti quanti noi quindi da questo punto di vista il popolo sarebbero tutti gli esseri umani in quanto fratelli figli dell'umano della terra eccetera e questo vale a 360 gradi è chiaro che poi il passaggio successivo nella misura in cui passiamo dall'antropologico dall'umano allo specifico ecclesiale è il popolo di Dio inteso come i battezzati quindi coloro i quali poi attraverso l'esperienza del battesimo radicalizzano radicano quest'umano nell'esperienza del crocifisso risorto ma perché si parla di mistero riguardo alla Chiesa? è perché è un aspetto visibile è un aspetto invisibile quello visibile lo riscontriamo tutti i giorni con le difficoltà le fatiche e anche a volte i guai e a volte anche gli scandali purtroppo poi c'è una realtà invisibile quella su cui ha messo la garanzia Gesù e su quella facciamo leva per sollevare anche l'altra c'è bisogno proprio di recuperare quei grandi insegnamenti del Vaticano II che rimangono una traccia fondamentale per la Chiesa nel nostro tempo e voltiamo pagina nei giorni scorsi durante la Fiera del Levante di Bari si è svolto un convegno per fare il punto della situazione sull'eholico offshore in Puglia sulle esperienze sul territorio e sulla pianificazione dello spazio marittimo i dettagli nel prossimo servizio Tavolo di confronto e studio le prospettive di sviluppo dell'eolico offshore in Puglia a Bari in Fiera del Levante la prima conferenza e laboratorio regionale del progetto BEHOND nell'ambito del progetto Interreg Italia-Croazia una grande opportunità sotto il profilo ambientale ma anche occupazionale a sottolineare questo aspetto da non sottovalutare in apertura del meeting il capo di gabinetto della regione Puglia il professor Giuseppe Catalano Bisogna scegliere la localizzazione a mare coerentemente e anzi direi in stretto collegamento con la localizzazione della produzione a terra dove si richiedono spazi particolarmente ampi per le politiche industriali che possono anche dare un grande obiettivo sul tema dell'occupazione e sull'utilizzo efficace delle strutture portuali la dimensione dei flotter e delle pale non consente come in altri casi di importarle dall'estero o da lontano oriente la produzione l'assemblaggio e il varo delle piattaforme deve avvenire sul territorio in cui vengono poi localizzate le opportunità dell'eolico offshore in questo momento riguardano gli investimenti che gli operatori intendono affrontare chiarisce il dottor Donato Liguori del Ministero dei Trasporti sui tavoli 36 stanze e il nostro compito è quello di velocizzare le procedure affinché queste opportunità poi divengano realtà i risultati di questa sfida si vedranno nei prossimi 12-18 mesi ha poi proseguito il professor Catalano come sempre bisogna coniugare nelle scelte politiche strategiche l'insieme degli interessi pubblici ovviamente c'è un interesse pubblico forte alla decarbonizzazione in particolare nell'area di Taranto nell'obiettivo di decarbonizzare l'acciaieria e anche diciamo gli interessi della pesca del trasporto marittimo e dell'ambiente sono interessi pubblici primari che vanno contemperate con equilibrio e con intelligenza e ottobre il mese del benessere psicologico in Puglia sono tante le iniziative organizzate dall'ordine regionale degli psicologi che però denuncia che c'è ancora molto da fare per aiutare chi è in difficoltà ascoltiamo insieme l'appello promuovere l'importanza della salute psichica aiutare chi convive con il disagio psicologico a non sentirsi solo e a chiedere aiuto e per farlo ottobre è il mese giusto perché è interamente dedicato al benessere psicologico in Puglia sono tante le iniziative messe in cantiere dall'ordine regionale degli psicologi incontri e dibattiti utili a diffondere informazioni perché in Puglia come in tutta Italia la percentuale di chi soffre di problematiche che ledono la tranquillità delle giornate aumenta secondo un recente studio condotto da AXA una persona su tre ha problemi di salute psicologica il 39% dei giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni vive in condizioni di fragilità l'osservatorio sanità e unisalute spiegano che il 27% degli italiani soffre di ansia e il 32% di tensione e nervosismo percentuali che salgono rispettivamente al 34 e al 40% tra i giovani con meno di 30 anni negli ultimi tempi la figura dello psicologo ha assunto centralità spiega il commissario straordinario degli psicologi pugliesi Giuseppe Luigi Palma gli psicologi evidenziano che le agenzie nazionali e internazionali indicano la necessità di attivare una rete in grado di promuovere il benessere psicologico fare prevenzione e intercettare precocemente le forme di disagio potenziando i servizi territoriali e la Puglia poteva essere capofile in Italia se solo avesse attuato le norme approvate da decenni continua Palma ricordando la legge regionale del 28 dicembre 94 che prevede l'attivazione in ogni distretto socio-sanitario di un'unità operativa di assistenza psicologica territoriale che però non è stata applicata visto che su 40 distretti riferisce risulta che non ve ne sia neanche uno attivo per Palma non servono nuove norme ma solo la volontà di dare attuazione a quelle già esistenti e restiamo sul tema della salute partita la campagna Frecciarosa 2024 la prevenzione oncologica viaggia in treno per tutto il mese di ottobre i viaggiatori a bordo dei treni Frecce regionali e intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di consulenza sulla prevenzione oncologica i dettagli nel prossimo servizio riparte il treno della prevenzione oncologica con Frecciarosa 2024 l'iniziativa promossa da Fondazione Incontradonna e dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane è giunta alla 14esima edizione chi sale a bordo dei treni Frecce regionali e intercity potrà ricevere per tutto il mese di ottobre dal lunedì al venerdì una consulenza gratuita sulla prevenzione oncologica dai medici messi a disposizione dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica ad alimentare per così dire il treno Frecciarosa la promozione della prevenzione primaria i corretti stili di vita e incentivare l'adesione allo screening mammografico il pap test e la ricerca del sangue occulto nelle feci in carrozza i medici e i volontari che distribuiranno anche il Vademecum salute redatto in collaborazione con il Ministero della Salute inoltre per tutto il mese di ottobre che come sappiamo è dedicato alla prevenzione del tumore al seno è possibile prenotare sulla piattaforma web frecciarosa.it i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti e indicazioni dal medico che dovranno comunque essere integrate presso strutture del sistema sanitario nazionale ogni anno in Italia si registrano oltre 395.000 nuove diagnosi di cancro e il tumore della mammella è quello più diffuso con 55.900 casi nel 2023 il 40% di tutte le malattie oncologiche potrebbe essere evitato eliminando o modificando il fattore di rischio da qui l'esigenza spiegano i promotori dell'iniziativa di incentivare la prevenzione ad ogni età Cultura Archivi e Comunità per il nuovo polo bibliomuseale regionale che sorgerà nell'ex caserma Rossani a Bari il progetto si inserisce in verità in un più ampio intervento di riqualificazione urbana che a partire dal già realizzato Parco Rossani vedrà poi la realizzazione della nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti e della Piazza delle Arti vediamo un grande presidio pubblico di cultura in Puglia è il nuovo polo bibliomuseale che sorgerà nell'ex caserma Rossani a Bari sarà la biblioteca più grande del mezzogiorno il progetto è stato presentato nei giorni scorsi durante la fiera del Levante qui avremo un grande polo bibliotecario e museale arricchito come ci piace dalla possibilità di fare musica e avremo anche la possibilità di fare teatro cinema perché attraverso il sapere e attraverso l'arte davvero si può cambiare il mondo in meglio con la cultura sarà una risorsa preziosa per archivi e biblioteche della Puglia che finora erano in cerca diciamo di una dimora un luogo a cui la soprendendenza presta particolare attenzione è un percorso condiviso tra noi del Ministero della Cultura e Regione Puglia lungamente e siamo contenti di vederne finalmente il risultato il polo accoglierà una parte del patrimonio della biblioteca del consiglio regionale teca del mezzogiorno il patrimonio della mediateca regionale l'archivio della gazzetta del mezzogiorno e l'istituto per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea alla raccolta conservazione promozione della cultura e storia locale sarà dedicata all'ex palazzina di comando la casa degli archivi mentre l'ex casermetta sarà destinata a biblioteca di pubblica lettura ci saranno spazi per bambini e ragazzi laboratori e sale poli funzionali una biblioteca del mediterraneo che è la testa del sistema dei poli bibliomuseali diffusi a livello provinciale e articolati attraverso le biblioteche di comunità su tutto il territorio regionale peraltro custodendo un patrimonio articolato tra la parte archivistica la memoria e una parte di public library aperta al pubblico ecco la sintesi giusta tra appunto memoria e futuro che è uno degli elementi fondamentali della strategia di politica culturale regionale Trionfano i giovani talenti dei cinque conservatori di Puglia alla prima edizione del premio Aldo Ciccolini sentiamo si è conclusa con grande successo la prima edizione del premio Aldo Ciccolini svoltasi a Palazzo delle Arti a Trani l'iniziativa ha visto la partecipazione di 20 giovani talenti provenienti dai cinque conservatori di musica della Puglia che si sono esibiti per due giorni davanti a una giuria di fama internazionale in questa maniera abbiamo voluto premiare sì il talento pugliese ma abbiamo voluto anche dare un segno alle istituzioni che già hanno mostrato entusiasmo tutti i conservatori di Puglia hanno subito aderito all'iniziativa i colleghi consigli accademici direttori gli studenti tutti quanti hanno nutrito enorme entusiasmo e hanno cercato subito di rendersi vivi partecipi di questa iniziativa e noi in particolare vogliamo renderla un appuntamento fisso per fare in modo che ci sia nella regione Puglia anche un unicum cioè un sostegno economico una vera e propria scholarship che favorisce i giovani artisti in carriera quelli votati al professionismo il riconoscimento principale è andato alla talentuosa Cristina Papieva una studentessa 22enne ucraina di Kiev iscritta al conservatorio Nino Rota di Monopoli grazie alla sua straordinaria esecuzione le è stata assegnata una borsa di studio del valore di 3.000 euro conferita dal Rotary International congiuntamente al Rotary Club di Trani la giovane vincitrice del premio avrà inoltre l'opportunità di partecipare ad altre iniziative promosse dalla fondazione anche in collaborazione con altri enti come la prestigiosa fondazione Paolo Grassi di Martina Franca che la ospiterà per un concerto premio per me questo è molto importante che la ciria ha apprezzato la mia esecuzione per me è davvero molto importante e come al solito tutti i premi dei concorsi poi io investo se esiste questa parola in italiano investo ai futuri progetti ai futuri concorsi ai futuri masterclass quindi questi soldi per la mia crescita futura musicale il premio Aldo Ciccolini conterà un albo d'oro dei vincitori esposto a partire dal 2025 nella sede della fondazione in corso Vittorio Emanuele Attrani promuoviamo quello che è il turismo culturale per il territorio perché abbiamo tutti i presupposti per poterlo per poterlo fare e quindi non soltanto distinguendoci per la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico ma anche per quella che è la cultura musicale perché proprio il maestro Aldo Ciccolini diceva che la Puglia è terra di pianisti è stato presentato ad Andrea il nuovo anno scolastico ed accademico 2024-2025 dell'Accademia Total Look tante le novità oltre ai corsi consolidati di estetica e acconciatura e ai docenti storici scopriamo di più nel prossimo servizio Un Open Day per presentare tutti i corsi previsti per l'anno accademico 2024-2025 dell'Accademia Total Look si è svolto ad Andrea l'evento che ha visto la partecipazione dei professionisti del settore della bellezza e dei nuovi iscritti interessati ai corsi e al piano di studio offerti l'Accademia Pugliese specializzata in estetica e acconciatura ha illustrato l'intera offerta formativa con il supporto dei direttori Vincenzo e Walter Adduasio e del team di docenti altamente qualificati esperti in vari ambiti e dedicati da sempre alla formazione di nuovi talenti Questo sarà un anno pieno di novità anche per i 30 anni della scuola Sicuramente come ogni anno porteremo la massima qualità la massima voglia per far sì che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di imparare e diventare poi nell'arco dei tre anni nell'arco del loro percorso formativo riescano poi a diventare appunto dei professionisti a tutto tollo che sappiano fare bene il loro lavoro sotto l'aspetto pratico ma che abbiano anche conoscenze sotto tutto l'ambito professionale quest'anno avremo delle novità sotto l'aspetto del trucco per quanto riguarda il terzo anno di specializzazione di acconciatori avremo delle novità per quanto riguarda le acconciature il taglio e il colore con novità moda che appunto portano i nostri ragazzi poi ad uscire dalla nostra accademia avere già una formazione ampia ma soprattutto di tendenza l'accademia Total Look nata ad Andrea nel 1995 oggi ha l'attivo tre sedi quella andriese insieme a quelle di Trani e di Altamura e rappresenta una delle più qualificate scuole di formazione professionale nella regione Puglia iniziano i festeggiamenti del trentesimo della nascita della Total Look ricordo svolgo il mio pensiero ai primi anni abbiamo iniziato con pochissima pochissimi allievi e quindi siamo a 250 allievi io credo che il percorso è stato senz'altro fenomenale abbiamo dato molto importante abbiamo dato lavoro più di 3500 persone che continua ci ringrazia in continuazione perché è stata la base per il successo di queste persone diamo spazio a nuove figure professionali per dare sempre un tocco di novità a quello che è il nostro know-how ed è tutto per questa seconda edizione noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei nostri programmi televisivi e vi auguriamo